Il momento per il quale siamo venuti qua a Parigi Vuol dire che anche in quel locale non si può entrare visto che è rosso Non so, si sapeva che diventi verde la luce Non so, si sapeva che diventa 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 la luce Ah, ecco Potrebbe già essere tipo quella lì Vai Vai È la prassa di questa? La prassa di questa Non so, dovrei Genera più pali di idea Per il nostro hotel era in là mi sembra Mi sembra che fosse quindi qui vicino Ah, uno di quelli che avevi fatto prima Sì, beh, ci sono poi stato un'altra volta Anche ci sono stato... Mille Ah, sì? Cosa te lo fa pensare? Andiamo ad andare in quella via là? C'è un pizza, c'è un pizza pasta e club privé No, club privé No, club privé No, bello No, bello No, bello Stai, che sei Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.